ragazze non avete paura stop non è successo niente sono comandata a distanza e bastardo mi sta dicendo di fare tutto quello si esatto capito quindi ho rubato sigarette o mi sono buttato sul palco senza senso comunque ragazzi apposta abbiamo un canale su youtube se per poi non è un problema va bene ciao ragazzi ciao ciao ma già l'avevano visto da prima fratello saluta della telecamera innanzitutto ok è praticamente lui mi comanda a distanza di pubblicare un canale come si chiama mad crazy ma non ci metteremo questo video però ti prego perché abbiamo una reputazione vabbè anch'io ho una reputazione prima che dicessi che mi piace il buco peloso voglio dire quindi anche a te ti consiglio di uscire no e va bene cosa sono esperimenti si esatto vediamo con la reazione della gente come reggisce eccetera eccetera minchia volevo che mi insegui ciao ciao che cazzo che so è un clip posso capire che mi chiedevi una chiamata mi chiedevi una chiamata ti segui il telefono lo dici? vabbè dai ciao ciao ciao